Il tuo compito è quello di agivolare i giocatori e soddisfare le loro richieste. In questi anni in cui svolgi la manzione di Team Manager, ti è capitato di avere delle richieste particolari da parte dei giocatori oppure sono richieste prettamente standard? Al momento no, poi vedremo più avanti per i prossimi giocatori che firmeremo. In passato no, richieste particolari di giocatori, poi ovviamente c'è chi ha famiglia, c'è chi è da solo, c'è chi ha magari esigenze particolari, però diciamo che stranezze da segnalare non ce ne sono.